musica 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 allora quelli del malo hanno la stessa maglia che avevamo noi quando abbiamo fatto il torneo allo stadio che tu avevi il 10 del capitano musica scontata metti la fascia mi rifiuto calcisticamente la fascia mi rifiuto calcisticamente tu non puoi non posso metterti la fascia di cacca la stessa maglia ecco per dire questo è da munire assolutamente per dire parlando di infortuni Paolo cos'è sbagliato Dio santo ce l'hai anche sul mancino Paolo cos'è sbagliato Paolo era sbagliata forte qua eh ma quadrado è vivo o morto? oh 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 qua siamo andati molto bene eh si ci siamo giocati il jolly eccolo qua oh oh guardalo che sembra Zidane si si bravo Rodrivo anche tiro si grande Aleksandro la labirintite di Bentancur ha premiato ragazzi che cade per terra per sbaglio e Aleksandri un volo d'angelo eliminato il portiere come atelisca bella azione però bella azione dai Aleksandro pensa a te pensa a te ci siamo giocati un jolly eh bravo bravo Aleksandri beh comunque da quando è iniziato è stato là davanti subito se ti ricordi subito è stato il primo ad esserla davanti comunque abbiamo girato anche bene il pallone è stata una bella azione bel cross e Tancur che muore perchè gli sparano però va bene così dai però viene iniziato a lui guarda che giro che fa ma poi ma ha tirato per terra Aleksandri comunque Aleksandri c'è ha tirato per terra o prendeva la palla o dava una cappata direttamente al campo ragazzi è comico questo gol perchè fa molto ridere però vale 1 è grande il gol bravo si è vero almeno Bentancur si è inserito arte povera arte poverissima un molla un molla è nonna vamo Aleksandri che sembra a cafu oh 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 bellissimo no che bella azione madonna ma sembrava Marcello ai tempi d'oro ma guardalo lì si no gran lancio anche di Borrucci ma che serata è beh Juve Juve va qua un mollo mi sembra che il mollo e vabbè vabbè capito l'italiano mi sembra ma vai rabbio vola oh guardalo sembra Pogba si con quelle gambe si mo che bello mo che bello mo che bello no ma che mani lunghissime ha questo qua era già lì davanti sposti tra tira era già lì bravo Rocca sta la boccia controllato bene comunque Morata non era così semplice a controllare guarda lì non riescono a giocare siccome c'è un campo comunque di patate non riescono a giocare cioè di ballo non riesce a portare avanti la palla attenzione davvero attenzione non mi sembrava eh però ma davvero gli era dato così proprio diretto boh io non riesco a interpretare ma dipende qual è la cosa che hanno detto agli arbitri cioè dovrebbero avere una linea cioè se hanno detto tutte le volte che sono l'abbraccio dai rigore rigore un po' morbido sono questi sono quegli episodi che al bar fanno delle discussioni che rigore un po' morbido però sono incredibili controllo rigore per me ci può stare come no esatto anche secondo me non riesco a prendere la mia posizione gli altri non ho capito se era fuori gioco o no mi sembrava fuori gioco credibile Morata era in gioco ragazzi non si è mai visto Dybala sul discreto di rigore buon rigore in centro su quanto daresti per batterlo io pochi non vorresti battere no 2-0 Juve Demasch Dybala dai e tu si soffia dai si ma l'ho già vista 2-0 a fine primo tempo con una buona Juve eh in trasferta anche l'ho già vista passate due settimane hai scivolato anche sul rigore eh attenzione Morata per i ma si ma si ma si e questo l'ho beccato anch'io boh si ma mamma mia ma te stai sempre qua adesso eh te non ti muovi più da qui eh ma signori vado a prendere il letto ahahahah lo lasciamo qua Andrea yes assist di Shesney assist di Shesney assist di Shesney ah no no che cazzo coltello come la tabla lì a si oh nooo nel set te l'ho fatto got nel set però c'è te però domani mi vedi la partita a casa mia ahahah adesso c'è 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 cambio io ho bisogno ahahah l'entacurna è recuperata c'è giocala giocala adesso brava bella così si di prima addirittura eeeeee bravi calcio champagne bravi 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 calcio champagne bravi in quelli di Malmo verticale per Moise si 4-0 però fuori gioco fuori gioco nooo di Moira gole assist dei subentrati fuori gioco nooo Moise bravo però bella azione bravi bravi no zero assolutamente oddio oddio questo è un eh sono le ampolle che tira fuori Allegri questo tutto ciò ha un motivo invece farà gol Rugani adesso eh non lo so però è ma Rugani da quanto tempo è che non giocavi ahahah più o meno dagli allievi la faceva agli allievi ah negli esordienti lo visti l'ultima volta c'era lui il Caldara uuuu mo nooo abbiamo fatto delle giocate bellissime si tiro ah ci ha fatto andare sul sinistro il mercino fine finisce qua ragazzi 3-0 game over game over a San Siro di Malmo bene c'è un San Siro di Malmo anche lì c'è un San Siro di Malmo anche lì